di foreste, nuvole, gammi eccetera eccetera. Questo è Leonardo. Mettete un libro. Ragazzi, ragazzi, ascoltate Leonardo. Mettete il vostro libricino davanti a voi. Dai, ma io non ho. Mettete il vostro libricino davanti a voi. Poi dentro ho messo le nuvole che qua piove e ammaccano la frutta. Poi ho fatto due nuvole qua e un sole qua che c'è un raggio di luce che, un raggio di luce che piano apre le nuvole e le manda via. Poi qua ho fatto sempre il sole, però qui ho messo dei tubi. Ho potuto concepire una bella birra e poi sono andata a passeggiare nell'acqua e mettere il passeggio l'acqua, c'è un bel vino, gigetta e gigiore. E poi prendono la valigia e vanno a giocare. Poi prendono il piano e... C'è che cosa bella un po' no